Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, è stato confermato alla presidenza della conferenza episcopale Calabra. L'elezione è avvenuta alla presenza dei vescovi della diocesi della regione. Seguiamo i dettagli nel servizio. Durante i lavori della conferenza episcopale Calabra, Monsignor Vincenzo Bertolone, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, è stato confermato alla presidenza. L'elezione è avvenuta alla presenza dei vescovi delle diocesi di Calabria, nella sede del seminario regionale San Pio X di Catanzaro. Monsignor Bertolone, dopo la presidenza dell'arcivescovo Salvatore Nunnari, era stato eletto per la prima volta il 3 settembre del 2015. Il presule, nato a San Biagio Platani il 17 novembre del 1946, è stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1975 nella congregazione dei missionari servi dei poveri. Nominato vescovo di Cassano all'Oionio da Papa Benedetto XVI il 10 marzo 2007, ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 3 maggio 2007 dal cardinal Tarcisio Bertone. Nominato arcivescovo di Catanzaro Squillace il 25 marzo 2011, ha preso possesso della sede il 29 maggio 2011.